Ci troviamo sull'argine destro del fiume Magra nel comune di Follo. Proprio questa mattina è stato avviato un cantiere per l'innalzamento dell'argine e la messa in sicurezza di questo territorio dal punto di vista idrogeologico. I lavori sono stati appaltati da Regione Liguria per un investimento complessivo di oltre 2 milioni e mezzo di euro e saranno terminati con una tempistica di 8 mesi. Un intervento molto importante, un lavoro svolto anche con le amministrazioni comunali di Foghe di Vezzano che ringrazio perché non era facile pensare che qua si potesse lavorare a una messa in sicurezza strutturale intera di quest'area. Farlo ovviamente dal rischio esondazione duecentenale del Vara costa anche tanti denari e quindi credo che sia stato anche un grande lavoro quello di trovare oltre 2 milioni e mezzo di euro per realizzare queste opere e credo anche una buona sinergia istituzionale. Abbiamo messo in campo sia fondi del PNRR che fondi di protezione civile di cui vado particolarmente orgoglioso e lo dico, questo è un intervento che viene realizzato non per rispondere a un'emergenza ma invece per rispondere a una criticità strutturale di tanti anni di questo territorio. Un intervento atteso da tempo per una zona che può diventare importante dal punto di vista produttivo e commerciale e che è anche importante dal punto di vista sportivo. Qui vicino si allena lo Spezia Calcio. Assolutamente sì ed è importante perché lo Spezia essendosi aggiudicato questo bando ha dei progetti importanti su follo. La costruzione di un nuovo campo a 11 e questo vuol dire per noi portare gente a follo in sicurezza e quindi oggi è una giornata molto importante sia per quello che riguarda le attività sportive e poi naturalmente per la sicurezza che in questo modo diamo ai miei cittadini. Il suo sogno è quello di realizzare qui un complesso scolastico? Sì. Io quando sono arrivato ho pensato a sì la manutenzione ordinaria ma anche a qualche progetto importante che è necessario al comune di Follo. Tra questi progetti oltre alla piazza che stiamo terminando c'è comunque la costruzione di un unico pollo scolastico dove fare le palestre, dove avere gli asili, dove avere le elementari, poi le medie e perché no anche la sede di protezione civile o anche di altre associazioni ma non avevamo la possibilità considerata la zona rossa di fare alcuna opera. Oggi possiamo cominciare davvero a progettare. È chiaro che abbiamo a cuore di risolvere un problema delle abitazioni, dei cittadini di Piano di Valeriano e contemporaneamente di poter dare uno sviluppo anche alle aziende che nella zona di Piano di Valeriano hanno collocato la loro sede con 250 addetti, pertanto un vero polmone non solo industriale ma anche occupazionale. Un ringraziamento chiaramente alla Regione perché trovare tante risorse non è sicuramente facile e apprezziamo il lavoro che l'assessore ha fatto in funzione di questi territori.